ciao a tutti sono Beatrice e il 18 al 19 ci vediamo tutti a Padova perché dovresti esserci anche tu perché un evento ha la capacità di cambiare radicalmente la tua vita la mia è stata cambiata grazie a un evento ti aspetto ci vediamo ci sono mille ragioni per partecipare a questo evento di Padova il più importante tra tutti è devi venire per toccare con mano che cos'è questa realtà ci deve essere un evento perché la tua vita può cambiare la prima cosa conoscerai il signor Presidente che ha creato tutto questo ascolterai le storie che sono partiti da zero da nulla e sono arrivati a tutto conoscerai il tuo team e il tuo sponsor e soprattutto tornerai a casa piena di energia e capirai che questa cosa fa per te perché è importante essere a Padova perché puoi guadagnare quanto non ha mai guadagnato in vita tua quindi noi ti aspettiamo ti aspettiamo a Padova ci siamo ci siamo ciao anch'io ci sarò perché perché amo immensamente vedere le persone felici ed avere successo è uno spettacolo incredibile che mai mi perderai per niente al mondo vediamo Padova vieni a Padova perché perché nel nostro lavoro è fondamentale creare unione tra di noi perché riconoscerai le emozioni che vengono trasmesse da un evento e ti renderei conto che è qualcosa di straordinario e che non si può raccontare se non si vive ti aspetto ci vediamo a Padova perché gli eventi sono l'unico momento dove possiamo stare tutti insieme è bello entrare in quella sala e sapere che alla fine siamo tutti i distributori ricordati che ad ogni evento noi scriviamo la storia dell'azienda e tu ne fai parte a Padova vieni a Padova per vivere un grandissimo weekend un'esperienza unica piena di formazione piena di emozioni e anche divertimento io ti aspetto perché sarò a Padova il 19 20 maggio per il grande evento ci sarò io ci sarai anche te sicuramente perché non immagini quello che potrà succedere all'evento prima di tutto incontrerai tutti i leader guarderà il presidente ascolterai tante storie di tante persone che ce l'hanno fatta e io personalmente quando vado ad ogni evento per me è ossigeno puro torno a casa con un'altra mentalità con tanta voglia di spaccare e di andare sempre più avanti quindi devi esserci ti aspetto ci saremo tutti perché essere all'evento snap semplice perché l'evento è passione l'evento è energia è carburante che ti permetterà veramente di concretizzare quello che hai realizzato fino adesso ci sarà la possibilità di conoscere dal vivo le persone di respirare l'azienda di conoscere i progetti futuri che avverranno ma soprattutto conoscerai le storie di persone di successo che ce l'hanno fatto e ti faranno comprendere che esattamente anche tu sei nel posto giusto al momento giusto e potrai realizzare quello che è il tuo grande sogno quello che ogni mattina ti fa svegliare e andare avanti in questo grande progetto quindi ti aspetta l'evento vieni a padova perché saranno due giorni ricchi di formazione emozioni e tantissimo divertimento vi aspettiamo ciao raga partecipa agli eventi perché gli eventi possono cambiare la tua vita come è cambiata anche la nostra è stato proprio il primo evento a cui abbiamo partecipato che ho compreso il valore della nostra azienda e delle persone che ne fanno parte dunque ti aspettiamo a padova vuoi dare un valore aggiunto alla tua vita e cambiare finalmente qualcosa in quello che è il tuo apporto economico vieni all'evento di padova per me ha fatto la differenza quindi può farla anche per te ti aspettiamo io ci sono perché devi esserci a padova non te lo puoi immaginare quello che succederà sarà bellissimo un'energia positiva ci saranno tantissime novità e non puoi far altro che venire ti aspettiamo ciao vengo a padova perché online è bello ma dal vivo di più ci si può abbracciare ci si può vedere e poi è uno show pazzesco si tocca con mano l'azienda si vede il presidente e i suoi figli che davvero danno il massimo e poi non si può perdere l'arrivo dei nuovi prodotti presentati lì per lì al momento emozione pura io torno dalle vacanze apposta per non mancare vengo a padova perché non potrei mai mancare mancare non 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 non